Essere al fianco di chi come voi rappresenta un pezzo importante dell'economia italiana vuol dire anche costruire un fisco alleato di chi produce e che non considera più un imprenditore, un commerciante, un artigiano come un evasore fino a prova contraria. Noi vogliamo cambiare approccio, vogliamo affermare una cosa semplice. Il cittadino non è un suddito da vessare e il rapporto con lo Stato deve basarsi sulla fiducia e sulla collaborazione. È una visione che abbiamo declinato anche nella riforma fiscale che trova la sua attuazione concreta in alcune norme molto importanti. Penso ad esempio all'estensione del concordato preventivo ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. È uno strumento che dà la possibilità di accordarsi preventivamente con il fisco sulle imposte da pagare ed essere liberi da accertamenti per i due anni di durata dell'accordo che poi è rinnovabile. Un grande segnale di fiducia e di collaborazione perché io credo che è da qui che l'Italia deve e può ripartire. Dalla fiducia reciproca, dalla capacità di riscoprirsi parte di una comunità, di pensare ciò che si fa ogni giorno come parte di un progetto più grande, come parte di un progetto più alto. È un sentimento che in passato ha reso l'Italia ciò che è e che oggi noi dobbiamo saper recuperare perché il governo potrà adottare le norme migliori del mondo, le più efficaci, le più giuste, ammesso che sia capace di farlo, ma tutto sarà inutile se gli italiani non sapranno riscoprire l'orgoglio di se stessi, la consapevolezza delle proprie capacità. Questa è in assoluto la sfida più grande che abbiamo davanti e su questo però io sono certa che posso contare sul vostro contributo. Quindi grazie davvero per quello che rappresentate, grazie per il lavoro che fate, grazie per l'interlocuzione che avete garantito al governo su tante materie che sono importanti per voi e per la nostra capacità di dare risposte ai cittadini e ovviamente buona Assemblea.